Ministro, lei è appena rientrata dalla Tunisia, qual è l'esito della missione? Un esito positivo, sono stati proposti dei progetti che possano vedere anche una rinascita di quel paese che possa dare un futuro ai giovani tunisini. Con lei in Tunisia c'era anche il commissario agli affari interni Johansson che più volte negli ultimi giorni ha ribadito come l'Italia non possa essere lasciata sola. Ecco, ma in concreto cosa si può fare e qual è la proposta dell'Italia? Maggiori rimpatri, una maggiore flessibilità dei rimpatri, non soltanto ma anche un canale informativo più rapido ed efficiente per quanto riguarda i migranti che partono, che prendono la via del mare. Spesso parliamo dei migranti come numeri, ma poi basta una foto come quella del neonato di due mesi strappato al mare a Ceuta per ricordarci il dramma che vivono queste persone. Lei da donna, da madre prima ancora che da ministro, cosa sente di dire su questo? L'immigrazione è un problema strutturale, non riusciremo mai a eliminarlo, ma sono problemi gravi che devono però vedere presente la comunità internazionale e in questo caso la comunità europea sta prendendo posizione anche nei confronti degli altri paesi europei che su questo fronte non sempre vogliono sentire e vedere la realtà.